Musica Sapevamo che era una partita estremamente complicata Da fuori è sembrato che tutto sommato Vicenza e il suo abbia cercato di farlo Solo che ha trovato una squadra che non ha mollato mai E che in difesa ha raccolto da per terra qualsiasi cosa Davvero, i complimenti mi sento di farli sinceramente a loro Noi abbiamo pochissimo da imputarci Ci sono alcune imprecisioni Ma la gara che ha giocato Martignacco, come l'ha preparata Come ha saputo difendere e allungare le azioni E leggere le nostre uscite Fa di questa squadra una delle migliori interpreti del campionato Lo dico con onestà Ma anche con piacere Perché comunque sono situazioni che conciliano con il volley Quindi tanti complimenti a loro Noi abbiamo provato Io credo che si sia visto Abbiamo cercato in ogni modo di arginarle Di fare il nostro gioco Per un po' ci siamo riusciti Siamo incappati all'inizio Proprio all'inizio del primo set Un attimo in un momento di destabilizzazione E questo ci ha proiettato subito sul 12-4 Ma poi il punteggio è finito 25-19 Significa che da lì in poi abbiamo giocato alla pari Lo stesso è successo nel secondo set E nel terzo Il peccato è che avanti i 13-8 Forse si sarebbe riuscito a concretizzare qualcosina in più Complimenti a loro intanto Infatti mi fermerei in un terzo ultimo set Perché sembrava che Vicenza l'avesse indirizzato dalla sua parte Brave le avversarie O c'è mancato qualcosa in quel momento? Ma è sempre un insieme di concause Nel senso che potremmo dire De merito nostro Ma poi non si riconoscerebbe il merito loro Quindi è chiaro che noi In alcune situazioni Soprattutto di contrattacco E di gestione di un paio di palloni Abbiamo faticato avvicinandole Ma è altrettanto vero Che se loro mettono pressione al nostro gioco Mettono pressione alla nostra ricezione Mettono pressione al nostro attacco E quindi costruiscono una fase di ricostruzione Vanno in ricostruzione in modo efficace Merito loro Un po' di demerito nostro Quindi credo che sia un po' e un po' È chiaro che in quel momento lì Noi avremmo potuto e dovuto spingere ulteriormente Proprio perché ne avevamo la qualità E ne avevamo le capacità È un peccato A parte la prima gara con Montecchio Questa squadra, la nostra, ha migliorato Ogni gara di ritorno Tutte Questa compresa Ce la siamo giocata alla pari Martignaco ha esultato follemente Finita la partita Il che significa Che ha trovato uno strenno avversario Significa Noi sappiamo che Nella rincorsa al nostro sogno Questa è una gara che poteva darci una certa dimensione Ma contare fino a un certo punto Nel senso che a noi conterà la gara di Soverato Quella conta davvero Questo è stato un'ulteriore occasione per dire Ragazzi ci siamo Stiamo crescendo Stiamo lavorando forte State lavorando bene Siete decisamente migliorate Come atleta e come squadra E come gruppo E questa cosa non può passare inosservata Per un 3-0 È un 3-0 che dispiace È un 3-0 che gli avversari Come abbiamo ripetuto Meritano Però deve lasciarci Quell'amaro in bocca Che è quell'amaro in bocca positivo Ovvero Quando hai un po' di diamaro in bocca Senti che avresti potuto tenere qualcosa in più Quindi non vai via con le ossa rotte Ma vai via con quel sapore di dire Forse qualcosa in più possiamo ancora fare Siamo state brave, ciniche, in difesa Perché non abbiamo mollato E complimenti anche a loro Perché non hanno fatto cadere un pallone Quindi poi diventa anche difficile Far cadere la palla E quindi far punti Noi sicuramente potevamo Fare qualche errore in meno E sicuramente partire meglio all'inizio dei set Perché siamo sempre arrivate a rincorrere l'avversario A parte l'ultimo set Però comunque brave alle mie compagne Grande partita da parte vostra È stata una bella partita Il punteggio è 3-0 Ma forse è stata più combattuta Di quello che dice il punteggio Assolutamente sì Noi per vincere qua Dobbiamo fare una grande partita Perché Vicenza era in un periodo di forma Che stava giocando bene Stava crescendo In attacco ci ha messo in grande difficoltà Quindi noi dovevamo fare una partita Super Soprattutto in difesa E riuscire a contrattaccare Colpendo i loro punti deboli Sinceramente temevo questa partita Perché non era facile Però devo dire che la mia squadra Questa sera è stata veramente Straordinaria Perché ha capitalizzato tante difese Tante situazioni Tenendo sul pallone E poi chiudendoli in attacco La rimonta poi del terzo set Ha messo la cigliacina sulla torta Due squadre che si sono affrontate Mettendo sul parquet Quella che è il fondamentale Magari il principe Del pallavolo femminile Cioè la difesa E siamo stati tutte e due Secondo me molto performanti In questo fondamentale Come on!